Come è un'organizzazione? Come è un'organizzazione che organizza questi eventi che sono formativi, che sono la mia passione, quindi benvenuti a chi vuole partecipare, benvenuti a chi vuole partecipare e complimenti per l'organizzazione che è stata fantastica. Grazie, quali miglioramenti personali e professionali adotterà già a partire da domani? Ma il corso è così vasto che è difficile forse vedere un'area speciale perché è proprio un corso che va a 360 gradi, a me è piaciuta tantissimo la parte in cui Brian specifica di come contrattare un nuovo personale, come amministrare il tuo tempo correttamente, quindi queste sono le due parti forse che mi hanno colpito di più. Marco, a chi consiglierebbe i seminari di One? A tutti, a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che vogliono migliorarsi, vogliono migliorare se stessi, vogliono migliorare al velo professionale, vogliono conoscere gente bella, solare, come sei qua oggi e vogliamo passare tre giorni indimenticabili. Grazie Marco, buona serata. Un piacere, ciao. Grazie.